Non c'è stato mai nessun problema nel fare un passo indietro rispetto alla mia iniziale candidatura sindaco perché in questo momento è molto più importante preservare l'unità e la compattezza del centrodestra. Lo ha ribadito anche in occasione del comizio che lo ha visto protagonista a Barletta in Piazza Caduti l'assessore provinciale al bilancio Dario Damiani che alle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio prossimi cercherà di riconfermare la sua presenza in Consiglio Comunale nella lista del Popolo della Libertà. Io continuo in Consiglio Comunale quindi mi ricandido al Consiglio Comunale per sostenere sia Giovanni Alfarano proprio a dimostrazione oggi dell'unità e della compattezza. Abbiamo deciso insieme ecco la sua candidatura io mi ricandido al Consiglio Comunale per continuare oggi quell'opera che ho iniziato anche tanti anni fa e continuare ancora a fare e a portare in Consiglio Comunale quelle che sono state le battaglie storiche. Soprattutto oggi dare anche un contributo mio personale di esperienza, di qualità politica che in questi anni mi sono costruito anche e soprattutto grazie alla fiducia dei tanti amici e dei tanti elettori di Barletta. Se il centrodestra si presenta con otto liste a sostegno di un unico candidato sindaco Giovanni Alfarano il centrosinistra è deflagrato in tanti rivoli contrapposti tra di loro e senza alcuna speranza di ricompattarsi. Un vantaggio che sapremo sfruttare ha detto Damiani grazie anche ad un programma fatto di progetti realistici che intende portare a termine tutte quelle opere strutturali rimaste incompiute per inefficienza delle passate amministrazioni. Gli elettori, conclude Damiani, sapranno finalmente premiare quell'alternanza alla gestione della città che è sintomo di democrazia e di qualità amministrativa. Noi oggi quello che chiediamo è l'alternanza perché Barletta quello che è mancato in tutti questi anni è stata proprio l'alternanza politica. Ecco perché chiediamo oggi questo voto per il centrodestra, lo chiediamo proprio per la discontinuità che va data con il centrosinistra. Sono troppi anni hanno amministrato Barletta e per troppi anni non hanno pensato al bene comune, al bene della collettività. Allora noi chiediamo oggi questo sostegno proprio per creare una seria alternanza a Barletta e oggi abbiamo la maturità politico e amministrativa per governare bene questa città.